Sì, serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Bar con lava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, hey, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie? Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli che affermano i denti nella carne, capite con i miei occhi? Ah, avanti. Sono più bello. Oh, devo riposare. Oh, merda! Oh, no! Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Sì, ci sono quasi. Mi conosci, me la caverò. Buona idea. Tornerò appena trovo Chris. Va bene, devo andare. Perché tutti si preoccupano tanto? Ma che... Hela? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. No. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono la centrale di polizia di Rakul City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. C'è questo sangue. Leon, torniamo indietro. Ma che... Porca troia. Le resci. Esci ora! Non riesco! Teniti forte! Oh, merda. Claire! Claire! Claire, stai bene? Sì, tutto ok. Tu stai bene? Non posso stare qui. Non è sicuro. Oh, merda. Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Non posso stare. Devo andare. Sembra la bocca di sé. Sembra la bocca di sé. La centrale di polizia. Ci sono quasi. Ci sono quasi. Mi piace più. Ci sono quasi. Ma cosa st Tobiasa viene? Ci sono quasi. Connicハハ. Ci sono qui. Ci sono che. Stai ora. C'è nessuno! Oh bene! Dove sei? Oh no! Oh no! Oh! Oh no! Calma Claire, calma. 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 Sono qui! La serranda! Aprite! Avanti, aprite! Aiuto! Dammi la mano! Aiuto! Forza! Dammi la... Dammi la tua mano! Tranquillo! Ti ho preso! Non mi dispiace! Non mi dispiace! Non mi dispiace! Non i dispiace! Qugiud che riparte la kidnaca! Non mi dispiace! Non mi dispiace! Non mi mis mi cancelled! Dai! Eccce che abrimso! Qui ci rubite! Oh, no! 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 Oh, no!